. Sciacca, due piromani minorenni denunciati per l'incendio di Monte San Calogero Avrebbero ammesso le loro colpe ai carabinieri, i due piromani minorenni che avrebbero dato fuoco fuoco a delle sterpaglie nella zona incontrada Isabella, ai piedi del Monte San Calogero. . Da questo gesto ne sarebbe venuto fuori un vasto incendio che ha devastato 5 ettari di macchia mediterranea e per il quale sono state impegnate per ore diverse squadre dei vigili del fuoco. . Alcuni testimoni hanno permesso agli investigatori di risalire all'identità dei due ragazzini e che sono stati denunciati. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps?. .